Riprendiamo subito la puntata odierna di Risultati e Classifiche, una produzione Telesveva News24.city. Adesso è il momento di parlare di Serie D Girone H, una giornata particolare perché il Bitonto ha vinto al 98esimo in casa al Città di Olivi contro la Virtus Matino, agganciando il Cerignola non sceso in campo, lo ricordiamo, causa Covid. Intanto vince anche il Francavilla in Sinni, una bella bagarre in testa nei piazzamenti più alti del Girone H di Serie D. Vediamo tutti però i risultati di questa giornata del Girone H. La diciassettesima, Fasano-Casarano 3-2, Nolati-Maltamura 0-1, 3-2 tra Bitonto-Virtus-Matino, Francavilla in Sinni-Lavello 3-1, 2-2 tra Molfetta-Biceglie, Nocerina-Mariglianese 1-3, Rotonda-Casertana 2-1, San Giorgio, Gravina 1-3, infine 0-0 tra Sorrento-Nardò, rinviata come detto Brindisi-Cerignola. La classifica quindi è questa e vede Francavilla in Sinni, è da sola al comando, 37 punti, Cerignola una partita in meno, 34 agganciata dal Bitonto, Fasano 30, Casertana 29 col Gravina, 27 punti per Nocerina e Lavello, Mariglianese 24, Sorrento 22, Molfetta 21, T-Maltamura, Rotonda 20 punti, Nola e Leonardo 19, Bicele 17, Casarano 16 punti, San Giorgio 14, chiudono, chiude il duo ad 8 punti, Brindisi-Virtus-Matino, anche il Brindisi ha una partita in meno. E allora adesso scendiamo in campo, gol e voci dei protagonisti dagli spogliatoi, andiamo! E l'ottavo minuto di recupero finale, punteggio fermo sul 2-2, sembra finita, ma Colella di testa, suo assist di Manzo, manda in estasi il Città degli Ulivi, trovando un gol quasi insperato. Vittoria di misura per il Bitonto, davanti al proprio pubblico, contro la Virtus-Matino, che esordisce col nuovo tecnico in panchina, Antonio Toma, per i Neroverdi, una rete fondamentale nella corsa, la vetta, aggancio al Cerignola, non sceso in campo nel turno odierno, causa Covid, per i Salentini invece è la nona sconfitta consecutiva, al momento la peggior serie negativa del campionato, partita subito viva, al settimo Turitto, crossa in aria, Dan prova la girata al volo, tentativo facile per Convertini, che para al nono, gli ospiti passano in vantaggio, palla al centro, che sembra innocua, Lanzolla e Martellone non si intendono, Monopoli si infila tra i due e mette in rete la sfera, e 0-1 al Città degli Ulivi, il Bitonto regisce subito, tredicesimo, Taurino ci prova a giro, rasoterra sul palo, al ventiseiesimo, corner calciato da Manzo e colpo di testa di Colella facile per Convertini, prove generali del gol vittoria per i due, poco dopo la mezz'ora la partita cambia, i padroni casa ribaltano il parziale, al trentacinquesimo sviluppi di un calcio d'angolo e danna questa volta col Mancino, trova la rete, riportando il punteggio in parità, al trentaseiesimo, un minuto dopo, palla al centro, Bitonto che riconquista palla e si riversa in attacco, Palumbo di sinistro lascia partire un tiro che si insacca nel sette, e 2-1 esplode il Città degli Ulivi, splendida rete del classe 2001 neroverde, all'intervallo Bitonto avanti di misura, ripresa che stenta a decollare, al venticinquesimo Mariani da lontano costringe Convertini al tuffo, pericolo che sfuma, al quarantesimo Virtus e Matino pericolosa, punizione di Monopoli, velenosa che si stampa sulla traversa, c'è una leggera deviazione di martellone ed è calcio d'angolo, dagli sviluppi dello stesso corner, salto, è tutto solo in aria ma non riesce ad inquadrare la porta sparando alto, gli ospiti ci credono e al quarantaquattresimo il pareggio arriva, grazie al miglior giocatore di questa giornata, Monopoli che sfonda a destra e trova il diagonale preciso che si insacca in porta, Città degli Ulivi in silenzio, pareggio che sembra una sentenza, ma nell'ottavo minuto di recupero, punizione di Manzo morbida per la testa di Colella che trova la traiettoria vincente e la rete del 3-2 che fa esplodere di gioia il proprio pubblico, vittoria dei neroverdi che nel prossimo turno, prenatalizio, mercoledì 22 dicembre, giocheranno ancora in casa a Bitonto, arriva il Francavilla in Sydney per lo scontro, diretto al vertice, Virtus Matino che lancia comunque buoni segnali con il neotecnico nel turno infrasettimanale, ospiterà il Rotonda. 4 gol, 2 per parte, succo di un derby scoppiettante, quello giocato al Polo Poli tra Molfetta e Biceglie che non risparmia emozioni e colpi di scena sino al termine e in cui c'è spazio anche per tre cartellini rossi estratti da Deborah Bianchi della sezione di Brato. Il sussulto finale lo piazza, Barletta per i Bicegliesi in pieno recupero. Il 2003, dei nero-azzurro Stellati fa centro sugli sviluppi di un calcio piazzato e fissa il punteggio sul definitivo 2-2. Morale della favola, i biancorossi di Renato Bartoli collezionano il quarto risultato utile consecutivo e la terza X di fila, la squadra di Danilo Rufini rimanda ancora all'appuntamento con il ritorno al successo, non vince da otto incontri in questo campionato, ma torna a muovere il proprio totalizzatore dopo due battute d'arresto consecutive. Derby incredibilmente scoppiettante che si apre col botto per gli ospiti. Contatto in aria dopo meno di due minuti tra De Gaulle e Lex a costa e calcio di rigore. Dal dischetto si presenta lo russo che fa centro e porta avanti il Biceglie. Insistono gli ospiti, conclusione di Ferrante di poco all'alto a metafrazione. I padroni di cassa con i rinforzi di mercato Giambuzzi, Monaco e Genchi nell'undici di partenza replicano con questa parabola insidiosa disegnata da Boccadamo. Tutto sotto controllo per Martorell e ancora traversone dello stesso Boccadamo per Trauret che non impatta come avrebbe voluto. A sei minuti dal riposo ci vuole un intervento di rilievo di Martorell per negare la gioia del pareggio a Pozzebon. Il bomber dei Molfettesi ci riprova poco dopo ma questa volta la soluzione ad incrociare termina sul fondo. Il pareggio dei padroni di cassa arriva comunque prima dell'intervallo, lo realizza Monaco, direttamente su calcio di punizione ed è davvero un gol d'autore. 1-1 a metà gara perché proprio prima del duplice fischio Martorell è superlativo a replicare così a Trauret smarcato da un colpo di tacco di Giambuzzi. Ripresa che si apre nel segno del Molfetta, Pozzebon su pennellata di Boccadamo non inquadra di poco lo specchio, lo stesso attaccante di Biancorossi lascia la contesa prima dell'ora di gioco, rosso diretto per lui per una scorrettezza segnalata dall'assistente. Bisceglie dunque con l'uomo in più, Bisceglie che prova a sfruttare la superiorità numerica. A Costa, impressione su De Gaulle, per poco non trova l'acuto fortuito del nuovo sorpasso. A segno, nonostante l'uomo in meno, ci va invece il Molfetta prima della mezz'ora. Giambuzzi batte il corner, pane bianco stacca come meglio non avrebbe potuto e fa 2-1 per i suoi. Emozioni a non finire, Morra trova l'acuto dell'aggancio ad una decina di minuti dal termine, ma l'assistente alza la bagnerina e segnala il fuorigioco. Si salva il Molfetta pure allo scadere, anche quando Viola compie un prodigio sullo stesso Morra. Insiste il Bisceglie che pareggia i conti. Un minuto oltre il novantessimo con il più giovane dei suoi, Barletta, in cornata vincente. E punteggio fissato sul 2-2. Regna il nervosismo, ne fanno le spese nel finale Fucci e De Gaulle entrambi espulsi. Finisce in parità al Paolo Poli. Il Molfetta sale così a quota 21 punti in classifica, 4 in più del Bisceglie e mercoledì. Per entrambe c'è l'ultimo turno del 2021 agonistico. Biancorossi di scena a Caserta, Nerazzurri, Alventura con il team Altamura. La partita è stata questa. Il Molfetta ha espresso un grande calcio e penso che nei 90 minuti sotto l'aspetto del gioco meritava di vincere. Purtroppo gli episodi, non ho ancora visto l'episodio di Pozebon ma nel primo tempo ci sono stati 2-3 episodi simili magari di Acosta dove non sono stati penalizzati e purtroppo invece a Pozebon è stato dato il rosso. Quindi questi episodi magari hanno condizionato ma nonostante in 10 il Molfetta ha continuato a giocare a calcio, a fare la gara e ha meritato il vantaggio. Purtroppo due palle inattive, un rigore e un corner purtroppo hanno condizionato il pareggio. Noi ora siamo a 21 punti, il nostro percorso è quello di migliorare i 42 dell'anno scorso, dobbiamo continuare a lavorare. Il campionato è molto difficile, ora nel mercato abbiamo preso 2-3 giocatori nuovi, qualcuno è arrivato 2-3 giorni fa come Gian Buzzi e comunque l'ho messo già in campo perché comunque avevamo necessità di calciatori, penso che la società mi metterà a disposizione qualche altro giocatore per raggiungere il nostro obiettivo. Cercavamo la vittoria dopo 6 partite con 4 pareggi e 2 scompitte consecutive, il primo obiettivo era quello di riprendere e fare punti. Volevamo una vittoria soprattutto perché in un derby così importante per i tifosi, oltre che per la classifica, era fondamentale per ripartire e magari mercoledì con un'altra prestazione buona con l'Altamura farci tutti un buon Natale. Purtroppo, come hai detto tu, il primo tempo l'abbiamo interpretato benissimo perché non l'abbiamo preparato, siamo riusciti a passare in vantaggio, lo abbiamo gestito bene, è stata una partita che avevamo in pugno e poi dopo con un fallo che potevamo sicuramente evitare ha fatto un gran gol il giocatore del Molfetta e quindi trovarsi sul pari dopo un primo tempo così ti ha un po' scompusolato i piani. E' un super gravina anche a San Giorgio a Cremano, sbanca e rimonta il domicilio dei Campani con il punteggio di 3 a 1, torna a vincere dopo il pari interno con Molfetta, colleziona il terzo successo nelle ultime 4 partite e la sesta affermazione nelle ultime 8. Super gravina che balza così a quota 29 punti in classifica e aggancia la casertana in quinta posizione quando mancano due giornate al transito al giro di Boa, numeri davvero eccellenti per una squadra come quella allenata da Tonino Somma e Felice Ragone. Partita ad inizio stagione semplicemente per confermare la categoria padroni di casa pericolosi in apertura con il colpo di testa di Bertolo, l'esperto vicino preferito almeno inizialmente tra i pari all'ultimo arrivato, il giovane mascolo, scorta la sfera sul fondo. La replica del gravina è fidata a questo destro fuori misura di Borgia, impreciso è anche il successivo mancino di Notari Stefano. Buon momento per i pugliesi, Ciacconi in venta per Borgia, Bella Rosa gli sbarra la strada. Torna a farsi notare in avanti il San Giorgio che passa a metà frazione, Di Pietro lavora il suggerimento, Varela piazza il guizzo in anticipo sul primo palo, gravina dunque costretto a rimontare, gravina pericoloso in chiusura di frazione, su schema su pala inattiva ma di Modugno non riesce a concludere all'interno dell'area piccola. Campani così avanti di un gol a metà gara, tutta un'altra storia però, la ripresa che si apre con la sventola mancina di Chiaradia che esalta la reattività dell'estremo di casa. Debole la successiva conclusione di Giglio, facile questa volta per Bella Rosa. Si complica la gara del San Giorgio quando l'Andolfo già a monito ferma così Chiaradia, cartelino rosso, napoletani in dieci uomini. Traiettoria insidiosa di Tuginetti su punizione, si salva Bella Rosa, il pari arriva comunque prima dell'ora di gioco, il palo respinge il lob del mio entrato Tomassone per Diop però, è un gioco dai ragazzi, insaccare con la porta avversaria incustodita, 1-1 equilibrio ristabilito, viaggiano sui ali dell'entusiasmo i murgiani, Tomassone per Borgia, per Diop che non riesce però arriva a dire in rete, il San Giorgio non sta comunque a guardare, conclusione di Navas deviata da Varela, lo stesso Varela poi conclude tra le braccia del mio entrato Mascolo. A 20 minuti dal termine arriva il sorpasso del Gravina, splendida l'esecuzione di Diop che fa doppietta personale e sale a quota 8 centri in questo campionato, 2-1, Ciacom poco dopo non riesce a piazzare il colpo del KO che arriva comunque nei minuti finali con il mio entrato Kristeschi, colpaccio da 3 punti dunque per i murgiani, al paudice finisce 3-1 per il Gravina che aggancia la Casertana in quinta posizione nel Gironi H e fa iruzione in piena zona playoff, ora c'è da provare a chiudere l'anno solare con un'altra gemma della collezione autunnale mercoledì per l'ultimo turno del 2021, ci sarà ancora una campana sul Camino dei Gelo Blu, il Nola, questa volta sul Sintetico del Vicino. Secondo successo consecutivo e passo importante verso la salvezza per l'Altamura che sbanca il campo del Nola con un calcio di rigore trasformato da tedesco a 13 minuti dal novantesimo. Tre punti pesantissimi per il team di Mister Di Benedetto che da quando siede sulla panchina murgiana ha conquistato due vittorie e un pareggio senza subire reti. Inizio di gara molto contratto e condizionato dal forte vento al 14esimo, rinvio errato di spina e pallonetto provato dal campano d'Angelo, l'estremo murgiano si rifugia in corner. Risponde l'Altamura al diciassettesimo su di sviluppi di un calcio piazzato, colpo di testa di Clemente, straordinario intervento di Torino che salva i suoi. Al ventitresimo nuova chance per gli ospiti con la conclusione di Barg e il tocco di Siciniano che evita guai peggiori, si va a riposo a reti inviolate. Nella ripresa l'Altamura a dettare i ritmi, al 51esimo doppio occasione per il vantaggio bianco-rosso, Molina perfora la difesa da sinistra e calcia, Torino respinge sulla palla, si avventa tedesco per il più classico dei tap-in ma l'estremo campano si supera con un grande intervento. Al 57esimo ancora Altamura pericoloso sugli sviluppi di un corner, Molinari spara alto da buona posizione, al 61esimo sempre Molinari ci prova col sinistro senza impensierire l'estremo di casa, al 75esimo torna ad essere pericoloso il Nola, bella combinazione tra D'Angelo e Donnarumma con il tiro di quest'ultimo da ottima posizione che non trova lo specchio della porta. Sul capovolgimento di fronte l'Altamura trova il vantaggio, il portiere Campano sbaglia il rinvio colpendo un suo compagno di squadra, Tedesco recupera la sfera ma viene stesso in aria proprio da Torino, rigore ineccepibile come la trasformazione di Tedesco che firma lo 0-1. Nel finale la squadra di Di Benedetto non lascia spazio alla reazione dei padroni di casa e dopo sei minuti di recupero festeggia una vittoria fondamentale in chiave salvezza. Tre punti d'oro per i biancorossi che salgono a venti in classifica e mercoledì per l'ultima gara di questo 2021 andranno a far visita al Bisceglie. Un punto a testa che serve a muovere la classifica, a far galleggiare in zona sicurezza sia il Sorrento che il Nardò e 0-0 con poche emozioni allo Stadio Italia in terra campana con Cioffi a scegliere Gargiulo in avanti e Tedesco a girarli attorno anche per la partenza di Iadaresta in settimana verso Bitonto. Nel Nardò invece De Candia sceglie un offensivo 4-3-3 con Mariano e Caputo sulle ali e Cristaldi, boa centrale, primo tempo però avaro di occasioni. Anche se il Nardò a farsi preferire il colpo di testa di Mariano, palla che danza pochi passi dalla linea di porta, nessuno però interviene, inaugura di fatto le azioni pericolose da segnare sul taccuino. Altro colpo di testa, questa volta molto più pericoloso dalla parte opposta sugli sviluppi di un corner. Gargiulo anticipa tutti ma Petrarca è bravissimo a bloccare tutto a terra, è sempre Mariano che si dà un grande affare davanti per i neretini, la sua conclusione è però alta, spinge il Nardò sull'acceleratore poco oltre la mezz'ora, Mancarella chiude una bella triangolazione con Masetti, Volzone bravissimo a chiudere invece lo specchio della porta in corner. Sugli sviluppi del calcio d'angolo è Caputo a chiamare direttamente a un intervento impegnativo l'estremo difensore di casa con i pugni, pochi sussulti e ripresa di marca decisamente più casalinga. Gargiulo ci prova dal limite, troppo debolmente per impenserire Petrarca, Mancarella, replica per il Nardò con un tiro potente ma leggermente impreciso, sfera sul fondo, Caputo direttamente sul calcio di punizione, la sua specialità sfera che scende bene ma centrale e Volzone pare in due tempi, dall'altra parte ci prova sempre su punizione, il nuovo entrato Cassata, palla direttamente sul fondo, Rizzo uno dei più attivi tra i padroni di casa, fa tutto bene sulla destra, salta un paio di avversari, il suo tiro a giro, Mancino, è troppo largo, finisce sul fondo sempre il numero 6 di casa, l'occasione forse più gota del match, un tiro al volo a porta praticamente vuota su di una corta respinta di Petrarca in uscita, tiro che però colpisce la Monica, finito a quel punto in posizione di offside. Azione interrotta ma pericoli che continuano ad arrivare per i neretini, soprattutto dalla parte destra del fronte offensivo e il sorrento ci prova, questa volta con Petito a servire un pallone invitante per la Monica, bravo a farsi trovare completamente libero nel cuore dell'area di rigore, molto meno acciccare completamente la sfera, poi colpita debolmente da Mezzavilla, Petrarca sbroglia tutto definitivamente, chiudendo lo specchio della porta sul nuovo tentativo di Rizzo. E l'ultima emozione del match, con il risultato inchiodato sullo 0-0, è Nardò che dovrà ora chiudere il 2021 nella sfida a casalinga contro il Fasano. Quei VARC bisogna anche dare merito al Sorrento, che comunque, come dicevo prima, è una squadra di tutto rispetto, è una squadra che proprio nel reparto mediano, nel reparto di dietro hanno dei giocatori che sono tra i più forti del girone H di Serie D, quindi non è demerito nostro. C'è qualche spazio che abbiamo trovato, siamo riusciti ad andare alla conclusione qualche volta, qualche volta c'è mancato l'ultima scelta, l'ultima scelta forse c'è mancata, però bisogna anche dar merito al Sorrento, che poi a un certo punto riuscivano a compattarsi con i tre difensori centrali, più l'aiuto di Mezzavilla, l'aiuto della Monica, l'aiuto di Virgilio stesso, quindi non ci sono dei meriti nostri, credo che ci sono anche parecchi meriti del Sorrento, a cercare di non darci la conclusione facile. Il Fasano va a segno contro il Casarano e vola in classifica, centrando il sesto risultato utile consecutivo, con cinque vittorie all'appello. Un'affermazione piena, meritata, anche se qualche leggerezza nel finale di gara rischiava di costare caro. Sul sintetico di Alberobello ci pensa il solito Corvino a prendere per mano la squadra prima del ritorno rabbioso degli ospiti registrato nell'ultimo quarto d'ora. Si gioca sempre sul neutro del comunale Ruggero Cianni di Alberobello in anticipo per la diciassettesima giornata in condizioni climatiche caratterizzate da rigide temperature e vento pungente. In cronaca subito pericoloso il Fasano al settimo con una punizione dal limite di Corvino che chiama Ianni alla deviazione in corner. Sugli sviluppi del calcio d'angolo all'ottavo arriva il gol di Rapina di Corvino che approfitta di un rimpallo favorevole in area per battere imparabilmente il portiere Salentino. Pasticcio difensivo al decimo degli ospiti con Greco che serve per i anni ma il portiere perde il tempo dell'intervento agevolando Susa che ruba palla e insacca per il 2 a 0. Proteste dello stesso estremo difensore ospite per un fallo del giocatore di casa ma l'arbitro sorvola convalidando la rete. La reazione degli ospiti arriva al tredicesimo con avvantaggiato che porta scompiglio in area biancazzura ma senza successo. Al sedicesimo Calabria impegna Ianni con un tiro dal limite mentre sfiora la traversa Montinaro su punizione al ventitresimo. Al ventottesimo Corvino impegna dalla lunga distanza direttamente sul calcio da fermo il portiere Ianni che respinge con i pugni. Sfiora il gol il Fasano alla mezz'ora con Susa servito in profondità da Capomaggio che da posizione defilata lambisce il palo con un tiro in diagonale. Ghiotta occasione per gli ospiti al trentatresimo sugli sviluppi di un corner e Bianco che fa da scudo sulla linea di porta al tiro di D'Ambros. Al trentanovesimo combinazione Corvino Forbes con la palla che finisce fuori bersaglio. Negli spogliatoi si va sul 2 a 0 per i Biancazzurri. Nella ripresa subito girandola di sostituzioni tra le fila del Casarano. Gli ospiti tardano a reagire mentre i locali puntano ad amministrare il vantaggio giocando di rimessa. La prima azione degna di nota arriva al ventiduesimo e segna il tris dei locali. Forbes serve al centro per Corvino che tutto solo davanti al portiere non deve che appoggiare la sfera in rete. Al ventiseesimo punizione di Calemme con il colpo di testa di Capomaggio che non trova la porta da buona posizione. Deve uscire con i pugni suma al ventottesimo sul gran tiro di Montinaro da fuori aria. Ancora ospiti in azione al trentatresimo con il neo entrato Riberio che prova la conclusione in porta ma Gorzelleschi chiude in corner. La rete ospite è nell'area e arriva al trentacinquesimo con Riberio che serve per Atteo, bravo a concludere alle spalle di Suma. Al trentasettesimo prova il tiro Riberio ma Suma è attento. Il Casarano ci crede ed accorcia ancora le distanze al trentottesimo con Dellino approfittando di un'indecisione sotto porta di Camarà. L'assalto degli ospiti continua e al quarantaduesimo avvantaggiato impegna Suma poi la difesa tiene bene gli ultimi attacchi e il Fasano può gioire al triplice fischio. Mercoledì ultima gara dell'anno a Leonardo. Al Fittipaldi il Francavilla supera con merito il Lavello e si aggiudica il derby Lucano andato in scena nella diciassettesima e terz'ultima d'andata. Nelle fila dei padroni di casa decisivi gol di Cristallo migliore in campo, Nolè e Croce che vanificano la rete del 2 a 1 messa a segno da Statella. Con questa vittoria complice il rinvio del match tra Brindisi e Cerignoli agli uomini di ragno tornano in testa la classifica in solitaria. Il tecnico Molfettese sceglie di iniziare con una squadra a trazione offensiva con Gentile, Melillo, Nolè e Croce contemporaneamente in campo dall'inizio. Zeman risponde con il tridente atteso alla vigilia composto da Liurni, Burso e Statella. Il derby inizia secondo le aspettative e al terzo si mette subito un gol del 2003 Cristallo che devia in rete su una punizione tagliata dalla destra di Melillo concessa per un fallo su Nolè. Poco dopo sulle ali dell'entusiasmo ancora non reso gli scudi con un cross per l'acrobazia di Croce su cui Amata compie un miracolo prima che l'arbitro fermi tutto per fuorigioco. Nei primi minuti gli ospiti sono frastornati, lo sublu lo capiscono e ne approfittano per continuare a premere la ricerca del raddoppio e al decimo dopo un tentativo ribattuto di Liurni, errore clamoroso di Brunetti che di testa regala il pallone a Nolè che si invola tutto solo verso la porta, salta Amata in uscita e deposita in rete. In queste prime battute la gara è stupenda e al tredicesimo Liurni tocca dal limite per Dell'Orfanello che mette al centro dove Di Ronza svirgola clamorosamente il rivio. La sfera arriva a Statella che da due passi batte Prisco e riapre il gioco. L'inerzia della partita cambia completamente e dal quindicesimo vede Biancoverdi comandare l'operazione tanto da arrivare al tiro per due volte tra il diciassettesimo e il diciottesimo ancora con Statella che non inquadra porta e Liurni che calcia debole centrale. Gli uomini di Ragno però rialzano il baricentro e al trentunesimo destro alla del Piero di Melillo su cui Amata compie un prodigio deviando in angolo con un colpo di regno. Al trentasesimo Melillo tocca per Nolè che dal limite cerca il sette opposto con una parabola a scendere ma senza inquadrare la porta. In avvio di ripresa Ragno manda in campo Langone al posto di Gentile per cercare maggiore fisicità in mezzo al campo. Il primo tentativo è di ganci al terzo da fuori ma termina ben oltre la traversa. Nei primi minuti sono iofantini a tenere in mano il panino del gioco ma senza creare pericoli ma la qualità dello stesso anche per la ricordata al terreno segue da non essere elevatissima. Zeman allora prova ad incrementare la proporzione offensiva inserendo l'ultimo arrivato ed ex primavera della Sampdoria Marrale per Marcellino ma cambia poco in quanto al ventesimo cross di sinistra dell'incontenibile Cristallo per la testa di Croce che infine un angolino. In campo c'è solo la capolista e al ventiquattresimo sempre Cristallo arriva sul fondo e serve Melillo che di prima intenzione calcia al lato. Per i lavellei si piove sul bagnato e al trentasesimo fallo sul mio entrato da Marco da parte di Dell'Orfanello che rimedio il secondo giallo e finisce anzitempo sotto la doccia. Gli ospiti in dieci la gara si trascina fino al triplice fischio senza ulteriori sussulti e con la vittoria del Francavilla che sale a quota 37 e resta da solo in vetta la classifica. Il lavello letteralmente scomparso nella ripresa resta fermo a 27 punti e dovrà impegnarsi per risalire la china. Mercoledì si torna in campo gli uomini di Zema riceveranno il sorrento mentre la capolista sarà di scena al città degli olivi di Bitondo. Scendiamo di una categoria andiamo in eccellenza girone A e girone B e in particolare c'è una novità importante perché nel girone A c'è la prima sconfitta stagionale per il Barletta e la vittoria contestualmente del Corato che quindi accorcia a meno 3 dalla capolista barlettana. Vediamo i risultati del girone A in particolare. Partiamo da qui con l'altatico Vieste che batte 3 a 1 Real City, Barletta, Città di Mola 2 a 3, Corato, Borgo Rosso Molfetta 3 a 0, Trinitapoli, Virgortrani 4 a 1, Timortanova, San Marco 1 a 1, Unione Calcio Bicelli e Canosa 4 a 1, rinviata Manfredonia Sansevero. La classifica dunque è questa dopo 15 giornate, Barletta 40, Corato 37, meno 3 punti e Città di Mola, Unione Calcio Bicelli 28, Manfredonia Trinitapoli 24, Sansevero 23 punti, Vieste 22, Timortanova 18, 14 punti per Canosa Real City, 11, Borgo Rosso Molfetta 9 punti, San Marco chiude Fanalino di coda, Vigortrani con 2 punti. Passiamo al girone B con i risultati di questa giornata. Castellaneta, Toma Maglie 0 a 2, Otranto Massafra 1 a 1, Gallipoli Ostuni 2 a 1, 2 a 2 tra Sava e Ugento, 2 a 1 tra Virtus Mola Manduria, Ginosa Grottaglie 5 a 1, infine Martina Racale 2 a 0. Classifica dunque che vede in testa saldamente al comando il Martina con 43 punti, 32 Ugento, Gallipoli 28, Toma Maglie e Castellaneta 26, 23 punti per Sava e Otranto Manduria 18, Ginosa 15, Ostuni 14, Racale 12, Massafra 11, Virtus Mola 10 punti, chiude Grottaglie con 9 punti e allora partiamo con i gol di questa giornata, alcune delle emozioni di questa giornata d'eccellenza. Il Barletta incappa nella prima sconfitta stagionale davanti al pubblico di casa contro un volenteroso cittadimola. I biancorossi cedono per 3 a 2 al San Sabino di Canosa ed interrompono una serie di 20 risultati utili consecutivi in stagione, di cui 14 in campionato e 6 in Coppa Italia. Gli uomini di Farina, privi di Polidori e Russo, scendono in campo con il consueto 4-2-4, con Manzari e Pignataro al centro dell'attacco, Lavopa e Lanzone sulle ali, Altares in difesa, in coppia con Telera. Il cittadimola, profondamente rimaneggiato negli uomini, opta per un 4-3-3 compatto con Lopez come principale terminale offensivo. Dopo solo un minuto, Barletta già all'attacco, corner di Vicedomini che dopo un batti e ribatti in area, arriva sui pili di Lanzone, ma l'ala biancorossa allarga troppo il tiro. All'undicesimo ancora il Barletta prova a cercare la rete da calcio d'angolo, ma la parla di Vicedomini viene respinta sulla linea dalla difesa del cittadimola. Al quindicesimo Manzari viene imbeccato da un cross, ma il suo colpo di testa è molto impreciso e termina fuori. Al ventiseiesimo un disattento Tucci non stoppa bene un retropassaggio e rischia di fare la frittata, evitando l'autogol solo di un soffio. Al trentacinquesimo un cross dalla sinistra di Lanzone cerca uno dei due bomber. Pignataro anticipa Manzari, che probabilmente era posizionato meglio, angolando la palla fuori. Allo scadere della prima frazione una punizione dalla sinistra di Tedone viene colpita di testa da Taccogna, subentrato qualche minuto prima. Tucci, non particolarmente attento, viene beffato. A inizio ripresa Farina mischia le carte e opta per Gé tra i pali e Morra al posto di Tucci e Lanzone. Il Barletta si riversa in attacco e al terzo minuto Vicedomini prova a fare ancora il gol olimpico dalla sinistra. I riflessi di Leuci e la travessa evitano il pareggio per i barisi. Sul capovolgimento di fronte il contropiede di Lopez è letale e beffa Gé con il piattone. È 2-0 per gli ospiti. Il gol che accorcia le distanze arriva al decimo minuto con Morra, che insacca un calcio di rigore fischiato per un fallo su Pignataro. Al diciottesimo ancora un contropiede letale da parte del Cittadimola e ancora Lopez che cala il tris per i suoi. La partita prosegue con un assalto disperato del Barletta alla ricerca di un ulteriore gol, ma il Cittadimola, rintanato nella sua metà campo, regge all'offensive e cede solo al trentottesimo con Morra che scarica di potenza in rete la sfera del 3-2. Ultimi minuti che si infiammano ancora di più in un San Sabino infuocato dal tifo dei padroni di casa, che però non riescono ad agguantare il pareggio. Il Barletta incassa per la prima volta la sconfitta in questa stagione, archiviando in maniera negativa un 2021 che l'ha vista come protagonista indiscussa del girone A di eccellenza. Il Cittadimola si gode la vittoria contro la prima della classe e consolida il terzo posto, alle spalle dei Biancorossi e del Corato, in condominio con l'Unione Calciobiceie. E per entrambe l'arrivederci e al 2022. Siamo stati un po' ingenui oggi nella fase di transizione negativa. Sapevamo che l'Opez era veloce, però ci siamo fatti infilare un paio di volte. L'errore è stato là, perché il primo tempo è equilibrato, abbiamo avuto due o tre situazioni noi. Loro hanno mai passato il centrocampo, hanno avuto la punizione laterale, abbiamo subito un gol che devo rivedere. Poi nel secondo tempo loro hanno fatto subito il 2-0, siamo stati bravi ad accorciare con Vito Morra 2-1. Poi la partita era girata un po' a favore nostro, però il terzo gol avrebbe tagliato le gambe a tutti. Noi siamo andati sul 3-2 e poi abbiamo fatto un assalto finale. Abbiamo avuto due o tre situazioni nell'assalto finale, ma non siamo riusciti a metterla dentro. Loro sono due giocatori importanti, però vale conto anche allo Stato, anche perché Amoltares è pinto che tutta la settimana sono allenati pochi per dei problemi muscolari, quindi eravamo un po' messi in maluccio. Però al di là di tutto questo, quello che conta è la reazione del secondo tempo. Il secondo tempo ho visto una squadra che voleva recuperare la partita, altre volte l'abbiamo fatto, oggi non ci è riuscito. Però adesso bisogna stare tranquilli, guardare la classifica. La classifica dice che siamo tre punti sopra e dobbiamo cercare di non commettere errori. È veramente una domenica bella per i ragazzi, per la società, aver battuto la capolista che sta facendo veramente un campionato straordinario. Ma io, come dico sempre, non c'è nulla di impossibile nel calcio e quindi abbiamo preparato la partita. Ero convinto che avremmo fatto bene, poi il risultato è figlia di tante componenti. È chiaro che abbiamo avuto tantissime, tantissime difficoltà perché nell'ultima settimana ci sono state tante situazioni, poi il calcio mercato, quindi ho avuto pochi uomini a disposizione per prepararla, però sono stati veramente encomiabili i ragazzi, la società in questa settimana. In 13, 14 ci siamo allenati, in 12 alcuni giorni, ma negli ultimi due giorni ho visto veramente i ragazzi concentrati e quindi veramente è una domenica bella soprattutto per questi ragazzi, per questi ragazzi, per il presidente Liuzzi, per il direttore Danilo Dammacco. Sono contento di aver dato, di aver contribuito a dare questa soddisfazione. Ce lo meritavamo, ce lo meritavamo per una serie di cose che non sto qui a spiegare. Scetta, l'Unione reclama subito un calcio di rigore per un falo in aria, i danni di Petrignani, il direttore di gara, lascia proseguire. Sul capovolgimento di fronte, Conè calcia dal limite, Lullo devia come può. Al settimo, Canossa nuovamente in avanti con Caputo che sfrutta un'incertezza della difesa biscegliese, ma calcia centralmente tra le braccia dell'estremo di casa. La difesa dell'Unione continua a traballare, al 14esimo un rinvio errato di Lullo permette a Conè di calciare a rete, provvidenziale intervento in scivolata di Monopoli. Al diciottesimo chance per la squadra di Rumma con la conclusione di Zinetti su Assis di Dalba. Taborda blocca in due tempi, i padroni di casa spingono e al ventunesimo passano. Assis da sinistra di Camporeale, conclusione ad incrociare di Zinetti che non lascia scampo a Taborda. 1-0 e Unione nuovamente pericoloso al ventitreesimo con Amoroso che scatta sulla linea del fuorigioco e calcia di sinistro. Taborda si oppone. Il Canossa scampato il pericolo tenta la reazione. Al ventiseiesimo incursione da sinistra di Loseto, Lullo devia sui piedi di Caputo che non si fa trovare pronto per la conclusione a rete. Al trentaquattresimo ci prova Conè dei trenta metri, Lullo vola e devia in corner. Al quarantaduesimo percussione centrale di Partipilo che conclude dal limite. Lullo ancora una volta devia in angolo. Al quarantacinquesimo sempre l'estremo difensore di casa salva il risultato sul tiro a botta sicura di Portoghese. Si va a riposo con i biscegliesi avanti 1-0. Vivace e ricca di emozioni anche la ripresa. Dopo nemmeno un giro di lancetta l'unione raddoppia. Piarulli intercetta metà campo, si invola sulla destra e mette al centro per Amoroso che con freddezza stoppa la sfera e batte l'incolpevole Taborda. La reazione rosso-blu è rabbiosa. Patruno dopo pochi secondi calcia alto da buona posizione. Al cinquantaseiesimo sugli sviluppi di un corner Partipilo calcia dal limite non trovando di poco lo spettio della porta. Il Canossa è vivo e al cinquantottesimo accorcia le distanze. Portoghese viene stesso in area da Zinetti e l'arbitro concede il penalty dagli 11 metri. Cone non sbaglia ma dopo appena tre minuti l'unione si riporta sul doppio vantaggio. Calcio d'angolo di Zinetti. Bufi si libera sul secondo palo e trafigge Cafagno subentrato a Taborda firmando il 3-1. Nonostante il passivo il Canossa continua ad attaccare ma trova davanti a sé un lullo in giornata di grazia e che al sessantaseiesimo si immola su Sanè in area piccola e due minuti dopo nega la gioia del gol a Partipilo dopo ottimo schema su corner. Così all'ottantunesimo i padroni di casa chiudono la pratica. Sanè commette fallo su Andriano in area e il direttore di gara comanda il secondo tiro dal dischetto di giornata. Dagli 11 metri lo stesso Andriano spiazza Cafagno e firma il definitivo 4-1. A cavallo del novantesimo da segnalare la traversa colpita dal numero 8 biscegliese. Fa festa l'unione calcio bisceglie che sale al terzo posto assieme al città di Mola a 28 punti e può guardare con serenità al futuro durante la sosta natalizia. Punizione troppo severa per il Canossa che dovrà ripartire dalla buona prestazione per poter centrare la salvezza. È stata complicata al di là poi del risultato finale che vede un risultato un po' largo però è stata veramente molto difficile bisogna dar merito a una squadra avversaria che ha avuto tante palle gol. Oggi credo che Lullo ha dimostrato di essere uno dei portieri migliori in circolazione per queste categorie. Credo che un gran merito del risultato va a lui e alla convinzione di tutta la squadra di fare un risultato positivo. Un bilancio ottimo perché chiudiamo al terzo posto per i punti con il Mola quest'anno solare ed è importante perché i ragazzi anche oggi avevamo delle mancanze importanti su tutte di Giorgio che speriamo di rivedere il prima possibile. Sicuramente tutta la squadra dedica a lui la vittoria, speriamo di riaverlo presto con noi. Poi avevamo Zingrillo, Quacquarelli è uscito subito, prezioso, quindi avevamo un po' di acciacchi però chi ha fatto la partita si è fatto trovare pronto ed è un segnale importante per tutti quanti. La ticpa partita che chi vince festeggia e chi perde spiega. Tra i nostri errori è un errore dell'arbitro, ha fatto sì che gli avversari hanno vinto una partita che penso che sul campo si è visto ben altra cosa, con un strepitoso Lullo alla fine ha fatto la differenza. Certo poi alla fine devi dare giusto rispetto agli avversari che hanno vinto però è difficile commentare una partita del genere. L'Atletico Vieste supera 3-1 il Real City nell'ultima gara del 2021 e si regala un più che sereno Natale. Sugli scudi Giovanni Albano, autore di una doppietta, e Caruso che chiude la gara con il primo centro in stagione direttamente su calcio di rigore. Ospiti in gol invece con l'autorete di Sementino. La partita, sollitto, deve rinunciare ancora agli infortunati Tiusiano e con Ticchio, a cui si aggiunge anche lo squalificato Lucatelli. 4-3-3 per il tecnico De Garganici con Olivieri, De Vita e Albano a comporre il tridente offensivo. Dalla parte opposta l'ex Lopolito schiera i suoi con un ordinato 3-5-2 che vede agire in attacco il tandem composto da Persho e Granit. Parte subito forte la squadra di casa che si rende protagonista dopo appena sei minuti di gioco con Vogliacco che in girata spedisce alto. Replica il Real City al quarto d'ora, corner battuto da Joff, Yamee impegna Maine che alza la palla oltre la traversa. 3 minuti più tardi ci prova invece Olivieri che però non inquadra lo specchio della porta. Al 26esimo, conclusione dal limite di Panelli, Maine non trattiene, Luzzi rimette in mezzo per la conclusione di Joff che termina alta. Un minuto più tardi i garganici fanno le prove generali del gol con De Vita che dal limite manda sul fondo. Al 33esimo continua la pressione dei Biancazzurri, Albano dalla sinistra mette al centro per Caruso che impegna severamente Vurchio. Al 42esimo il gol che rompe gli equilibri, angolo di Colella smanacciato da Vurchio, sull'area spinta si avventa Albano che al volo porta i Biancazzurri avanti, gol che tra l'altro chiude la prima frazione di gioco. La ripresa si apre con una ghiotta occasione per il Real City con Persho che impegna severamente Maine. Al 13esimo il Vies alla palla gol per il raddoppio, rilancio di Maine, sponda per Ricucci che al 2x2 con Vurchio c'entra incredibilmente il palo. Con il passare dei minuti gli ospiti prendono coraggio e dal venticinquesimo trovano il pari, cross dalla destra, sfortunata deviazione di Sementino che inganna Maine. Il pari del Real City risveglia il Vies che al 32esimo sfiora il sorpasso con De Vita. Nuovo vantaggio viesano rimandato però di pochi minuti. Al 40esimo De Vita serve in profondità Albano che al 2x2 con Vurchio non sbaglia siglando la personale doppietta. Nel finale c'è gioia anche per Filippo Caruso che prima si procura il rigore dopo una trattenuta di Roma-Nazzo e poi con grande freddezza e personalità lo realizza per il definitivo 3-1. Vittoria che consente al Vies di fare un bel balzo in graduatoria portandosi all'ottavo posto raggiungendo quota 22 punti. Per il Real City invece si tratta della seconda sconfitta di fila e adesso classifica che comincia a farsi preoccupante. Ora le festività natalizie con le squadre che torneranno in campo dopo la sosta il 9 gennaio. Per il quindicesimo turno del campionato di eccellenza si affrontano al Comunale di San Ferdinando di Puglia nel derby salvezza all'Ortanova in completo bianco-azzurro, in completo Granata, il San Marco. Direzione di gara affidata al signor Simone Serrani della sezione arbitrale di L'Aquila, assistenti Tangaro di Molfetta e Panebarca di Foggia. Con il calcio d'avvio andiamo alla sintesi della gara con la prima occasione per gli ospiti con la conclusione doppia di Cristofaro che trova due volte la risposta di Caposele e poi ancora qui la seconda possibilità per il terzino della formazione garganica. Prova a farsi ancora pericolosa la formazione ospite con il calcio di punizione di Menicozzo che termina alto sulla traversa. Poi è l'Ortanova al 26esimo minuto a portarsi in vantaggio con l'incursione offensiva da parte di Seba Bentos. Ancora una volta in gol l'uruguaiano che porta avanti la formazione ortesi approfittando della ripartenza dove il San Marco si fa trovare impreparato. Qui il gol di Bentos. Poi ancora Orta Nova con questa possibilità al colpo di testa di Lamacchia e il pallone sul fondo. Ci prova ancora la formazione di casa con la risposta di Musco alla conclusione di Ventura al 42esimo minuto. Un minuto più tardi ci prova il San Marco con Ruggeri che prova ad andare alla conclusione e colpisce il palo sulla deviazione della formazione ortese. Finisce il primo tempo con l'Ortanova in vantaggio 1-0. La ripresa si apre con la conclusione di Viola che trova la risposta di Caposele. Poi ancora ospiti con l'incursione offensiva di Ruggeri che porta sull'1-1 la gara con Ruggeri abile ad approfittare di uno svarione della difesa ortese. L'esultanza dell'attaccante garganico che trova il gol dell'1-1. Ancora con Auggeri al cross la formazione ospite con la deviazione che trova la risposta di Caposele alla deviazione di Ruggeri. Poi la traversa colpita da Menicozzo e ancora pericolosa la formazione ospite con la conclusione dalla distanza. Prova ancora ad andare alla conclusione la formazione di Mister Yannacone con la battuta di Tugui e la risposta di Caposele. Poi è la macchia ad andare alla conclusione. Il pallone è alto sulla traversa. Dentro Salerno per il numero 10 Cianci. Poi ancora la risposta di Caposele che si supera. Qui il doppio giallo per la macchia che lascia l'89esimo. L'Ortanova in inferiorità numerica. L'espulsione per la macchia. Poi è Bentos che serve Barbuti da poco entrato in campo. La risposta di Musco. Al 95esimo arriva la grande chance del vantaggio per la formazione ospite con Viola che c'entra solo all'esterno della rete. Finisce così la partita con il risultato di 1 a 1. Un pari che non accontenta nessuno. L'Ortanova che poteva approfittare dei risultati positivi dagli altri campi per allungare sulla zona retrocessione. Il San Marco porta a casa ancora una volta una buona prestazione. Non basta però a conquistare tre punti con le due formazioni che vanno così alla sosta natalizia con un punto. Noi siamo in chiusura ma la nostra pagina di sport continuerà domani con tutti gli approfondimenti del caso. Alle ore 15 ci sarà Super Mario Sport sui nostri canali di Telesveva naturalmente. Alle 20 e 15 l'approfondimento sul Bari in Chiacchiere da Bari appunto con Luca Guerra in studio. La sera 21 e 15 pane amore Fidelis con Aldo Losito e Pepino Ernesto i loro ospiti e vi ricordiamo che invece Risultati e Classifiche tornerà per l'ultima puntata di questa annata del 2021 nel turno infrasettimanale di mercoledì 22 dicembre. Parleremo naturalmente dei campionati che scendono in campo nel turno infrasettimanale in serata. Non mi resta che ringraziarvi per averci seguito e augurarvi una buona serata.